Hanno confessato la loro colpevolezza due degli arrestati nell'operazione Predator, condotta dai carabinieri Adacate e Comiso, ad ammettere le proprie responsabilità, Salvatrice Truppi, a 26 anni, Gelese, e il comisano Gaetano Velardita, a 20 anni, mentre il suo monimo, un 26enne vittoriese, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I due rei confessi, insieme a Mario Procida, vittoriese di 28 anni, sono ai domiciliari. La difesa ha chiesto al GIP Claudio Maggioni la remissione in libertà. Ora il magistrato, per decidere, attende il parere della Procura. I due erano stati arrestati nell'ambito dell'operazione Predator, così denominata proprio per la caratteristica tipica dei componenti del gruppo, di razziare i beni altrui ripetutamente, con violenza e senza alcuno scrupolo. Un'attività investigativa che ha visto impegnata la Procura e i carabinieri con indagini complesse, svolte anche con ausili tecnologici all'avanguardia. Oltre ai quattro già citati, l'inchiesta ha visto anche il deferimento e stato di libertà di ben 10 persone per ricettazione in concorso, con il contestuale recupero della quasi totalità della rifurtiva sottratta, costituita da moderne attrezzature informatiche e tecnologiche ed autensili in materiale vario per l'edilizia, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro che venivano rivendute da acquirenti senza scrupoli che talvolta hanno addirittura commissionato i furti. Grazie. 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 Grazie.